Un saluto da Ede Software e benvenuti a questo nuovo video della serie dedicata agli elementi costruttivi storici e monumentali. In questo video parleremo degli interventi di rinforzo applicabili ad archi e colonne. Abbiamo preparato il modello di un arco a tutto sesto con relativo rinfianco. L'arco ha una luce di 5 metri, lo spessore di 0,4 e la profondità di un metro. Abbiamo scelto la modellazione blocchi e giunti con un materiale che prevede resistenza a trazione dei giunti nulla. La lunghezza preferita dei blocchi è 0,8 metri e lo spessore dei giunti 10 mm. Per questo modello abbiamo già svolto delle analisi, in particolare l'analisi modale, l'analisi statica non sismica e l'analisi statica non lineare. Concentriamoci su quest'ultima analisi e portiamoci in vista frontale. Abbiamo svolto l'analisi pushover secondo 4 distribuzioni delle forze incrementali, in particolare la distribuzione A lineare, B unimodale, E uniforme ed F unimodale adattiva. Concentriamoci sulla distribuzione B. Innanzitutto notiamo che la curva ha un andamento bilineare. Se ci portiamo all'ultimo passo della curva possiamo apprezzare la posizione in cui si sono formate le cerniere che hanno portato al collasso dell'arco. La formazione di una cerniera tra due blocchi implica la dilatazione dei giunti di interfaccia. Per questa cerniera i giunti dilatati sono quelli in intradosso, mentre nella cerniera successiva i giunti dilatati colorati di rosso sono quelli all'estradosso. Questa alternanza è una caratteristica comune a tutti i meccanismi di collasso degli archi. Da questo si deduce che se si riuscisse ad impedire o ritardare la formazione di una delle due famiglie di cerniere, cioè quelle all'intradosso o quelle all'estradosso, la struttura ne trarrebbe di sicuro un giovamento. Per questo esistono due metodi di intervento che definiamo passivo e attivo. Il metodo di rinforzo passivo consiste nell'incrementare la resistenza a trazione dei giunti applicando all'intradosso o all'estradosso dell'arco degli elementi resistenti a trazione, quali ad esempio nastri in FRP o reti in acciaio. L'intervento attivo invece è un metodo presente nei lavori di Lorenzo Iurina del Politecnico di Milano e consiste nell'applicare all'arco uno stato di precompressione che porta a un ricentraggio della curva delle pressioni e quindi a un ritardo nella formazione delle cerniere. Ma vediamo come tener conto di questi interventi in PCM. Per farlo annulliamo i risultati dell'analisi. Selezioniamo uno dei blocchi dell'arco e notiamo che nella Property Grid è presente il gruppo rinforzo dove è possibile definire un intervento in estradosso o in intradosso specificando il tipo passivo o attivo e la forza relativa. In questo modo è possibile applicare un intervento solo in una zona dell'arco. Supponiamo infatti di selezionare i blocchi di questa zona e di definire un intervento in intradosso di tipo passivo con una forza resistente di 10 kN. Notiamo che una linea scura compare nel disegno per indicare la presenza del rinforzo in intradosso. La forza che abbiamo definito viene trasferita ai giunti adiacenti. Infatti selezionando uno dei giunti di questa zona notiamo che è presente una T resistente di 5 kN e il valore è pari alla metà del valore che abbiamo inserito in quanto ci sono due giunti per ogni interfaccia in intradosso. Supponiamo di voler applicare il rinforzo a tutto l'arco. Per comodità ci portiamo nel comando trova e selezioniamo solo la tipologia a blocco applicando il filtro, selezioniamo tutte le aste e applichiamo un rinforzo in intradosso con una forza resistente di 10 kN a tutti i blocchi selezionati. A questo punto è possibile eseguire le analisi per verificare l'efficienza dell'intervento applicato. Noi invece passiamo ad un file in cui abbiamo raccolto i risultati per diversi valori della forza resistente in intradosso. In questo file visualizziamo i risultati ottenuti con una forza resistente in intradosso di 25 kN. Scorriamo le diverse distribuzioni di forze e notiamo che le curve di capacità mantengono il loro andamento bilineare. Quindi per un confronto su diversi valori della forza resistente prendiamo come riferimento due punti notevoli della curva, cioè l'ultimo punto del primo tratto che rappresenta il limite elastico della struttura e l'ultimo punto della curva pushover. Questa tabella raccoglie i valori di spostamento, taglio alla base e moltiplicatore di collasso relative al punto di limite elastico della struttura. Lo fa per le quattro distribuzioni di forze considerate e per diversi valori della forza resistente in intradosso. Notiamo che per quanto riguarda taglio alla base e moltiplicatore di collasso i valori crescono all'aumentare della forza resistente in intradosso e questo è vero per le quattro distribuzioni considerate. Questa è una prima prova dell'efficienza dell'intervento. Passiamo alla tabella successiva che questa volta è relativa all'ultimo punto della curva pushover. Anche in questo caso notiamo che il taglio alla base e il moltiplicatore di collasso crescono all'aumentare della forza resistente in intradosso e questo conferma l'efficienza dell'intervento. Passiamo ora ad un file in cui abbiamo considerato un rinforzo in intradosso di tipo attivo. La tecnica di rinforzo attivo consiste nell'applicare dei cavi metallici ancorati per mezzo di connettori all'intradosso o all'estradosso dell'arco. Tali cavi, detti tiranti attivi, vengono poi tesati in modo da indurre una contemporanea compressione nell'arco. In PCM è possibile definire un tale intervento selezionando i blocchi interessati e andando a definire un intervento di tipo attivo con una determinata forza di tesatura dei tiranti. Questa impostazione si traduce nell'inserimento di forze radiali applicate nel baricentro dei blocchi e abbinate alla condizione di carico pre-compressione. Tali forze hanno il compito di indurre uno stato di compressione nell'arco pari alla forza specificata. In questo caso abbiamo specificato una forza di 25 kN, ma come già fatto per il rinforzo passivo, confronteremo i risultati dell'analisi ottenuti per diversi valori della forza di tesatura. Dai risultati dell'analisi statica notiamo che per la condizione di carico pre-compressione il valore dello sforzo normale nell'arco è proprio pari al valore della forza di tesatura che abbiamo specificato. Se passiamo alla visualizzazione della curva delle pressioni notiamo che per la condizione di carico permanente la curva fuoriesce leggermente in prossimità della chiave, mentre passando alla combinazione di carico che tiene conto anche della pre-compressione abbiamo un ricentraggio della curva. E' proprio questo l'effetto benefico della pre-compressione che ricentrando la curva delle pressioni ritarda la formazione del meccanismo di collasso. Passando all'analisi statica non lineare notiamo che anche in questo caso la curva di capacità presenta un andamento bilineare e anche in questo caso prenderemo come metro di confronto il punto di limite elastico e l'ultimo punto della curva. Questa tabella fotografa lo stato della struttura al limite elastico della curva pushover per le quattro distribuzioni di forze considerate e per diversi valori della forza di tesatura dei tiranti attivi. Scorriamo il valore del taglio alla base e del moltiplicatore di collasso e notiamo che i valori crescono all'aumentare della forza di tesatura. Passiamo ora alla tabella relativa all'ultimo passo della curva pushover. Anche in questo caso notiamo che per le quattro distribuzioni di forze i valori del taglio alla base e del moltiplicatore crescono all'aumentare della forza e questo è la prova dell'efficienza dell'intervento. Passiamo ora al caso di una struttura che oltre all'arco includa anche i piedritti. In questa struttura dai risultati dell'analisi pushover si nota che il meccanismo di collasso è dovuto alla formazione di cerniere nell'arco e di una cerniera alla base del piedritto destro. In questo caso l'applicazione di un rinforzo passivo all'intradosso dell'arco non ha portato a miglioramenti effettivi delle condizioni in quanto il meccanismo di collasso interessa anche i piedritti. L'introduzione invece di un rinforzo attivo inducendo uno stato di precompressione anche nelle colonne ha portato a sostanziali miglioramenti del comportamento della struttura. Questa situazione si verifica nel caso in cui i tiranti attivi vengano ancorati al terreno. Se invece il loro ancoraggio è situato a livello dell'imposta dell'arco allora delle reazioni verticali devono essere inserite manualmente e essendo rivolte verso l'alto annullerebbero l'effetto benefico del tirante attivo sui pilastri. Ma concentriamoci sul caso di tiranti ancorati al terreno e verifichiamo l'efficienza dell'intervento per diversi valori della forza di tesatura. La tabella riassuntiva delle analisi svolte relativa all'ultimo passo della curva pushover dimostra che all'aumentare della forza di tesatura dei tiranti aumenta il valore del taglio alla base e del moltiplicatore di collasso per tutte le distribuzioni di forze e questo dimostra l'efficienza dell'intervento. Passiamo ora ad un file in cui la stessa struttura è stata rinforzata per mezzo di una catena. Prima di procedere all'inserimento ci portiamo nel form delle sezioni e definiamo una sezione circolare di diametro 28 mm. Supponiamo di voler inserire una catena che vada dal baricentro del blocco iniziale al baricentro del blocco finale. Ci affidiamo al comando inserisci asta generica. Definiamo il punto iniziale e successivamente il punto finale dell'asta. A questo punto selezioniamo l'asta appena inserita e definiamo sezione circolare con diametro 28 mm che abbiamo appena definito. Assegniamo un materiale acciaio e definiamo il vincolo iniziale e finale come cerniera-cierniera in modo che l'asta si comporti come una biella. A questo punto siamo pronti per eseguire le analisi. Passiamo subito all'analisi statica non lineare e visualizziamo lo stato della struttura all'ultimo passo della curva pushover. Lo facciamo per tutte le distribuzioni di forze considerate. Anche in questo caso abbiamo preparato una tabella che rappresenta lo stato della struttura all'ultimo passo della curva pushover in assenza e in presenza di catena. Notiamo che il valore del taglio alla base e del moltiplicatore di collasso aumenta per tutte e quattro le distribuzioni di forze considerate. Questo dimostra l'efficienza di questo intervento. Bene, con questo è tutto. Grazie per l'attenzione e appuntamento al prossimo video.